E' finito il tempo di giocare e di scherzare, Renzi, ti richiamiamo alle tue responsabilità, ti abbiamo detto con un'apertura incredibile, facci quattro nomi e li facciamo votare a tutti gli iscritti del Movimento, facci quattro nomi in modo trasparente con tutta la rete e la comunità del Movimento 5 Stelle, noi voteremo il migliore, se il migliore ci sarà. E' pure possibile che il migliore non ci sarà. E allora io vi dico, loro stanno giocando con il Paese, con la democrazia, fanno le leggi ad personam, vanno nelle stanze chiuse, senza trasparenza, senza condivisione, senza niente, per loro tutta questa gente, tutte queste persone, tutti noi non valiamo niente e con i mezzi di comunicazione che sono complici in questo caso perché non si chiedono mai, non si chiedono mai, non si chiedono mai il perché, vanno solo allo scontro, alla contrapposizione, per dire poi alla fine il nulla. Noi ogni giorno lavoriamo in modo trasparente, condividendo tutti i nostri profili, andando nelle piazze come oggi e parlando chiaramente alle persone. E dopo due anni io sono contentissimo e lo ridico per l'ennesima volta che ancora possiamo scendere in piazza in modo libero, trasparente, guardandoci negli occhi e rispettandoci.